Siamo a bordo di Shipman 63, non è una barca proprio nuova, ma è una barca che ha molti motivi per essere mostrata, disegnata da Japheth Jakobin, uno dei progettisti più importanti del mondo della nautica da di porto contemporaneo, perché ha saputo intervenire nei processi industriali e nel design, quella parte di design che diventa processo di costruzione. Negli interni tre cabine e due bagni, più la cabina marinaio e il suo bagno, tanto spazio soprattutto in questa zona living, dove c'è una bella grande cucina, il carteggio, una dinette, una barca da vivere con tranquillità pur essendo una barca di alte prestazioni. Una barca costruita tutta di carboglio con un piano velico importante, è riuscita ad arrivare fino a 22 nodi, anche in questo caso una barca da crociera molto veloce. Non bisogna aver paura delle prestazioni nelle barche a vela, è un rettaggio del passato.